E' benvenuto di vedere questo nuovo episodio di SISS Plus Questo è solo un attimo ma devo vedere per bene tutto quanto Ok A quanto pare l'audio si sente bene Perché sapete prima stavo facendo un attimo una live E non si sentiva bene l'audio Come si preoccupa della connessione non lo so Comunque nel precedente episodio pensavo che era una delle sorelle che è in ospedale Ma invece no Colpa mia Poi maledizione ho anche sprecato le gemme Per una scelta che volevo fare Che purtroppo adesso non faccio più penso Allora vedete se l'audio si sente abbastanza bene Allora vedete Un, due, tre, per ora va No, ancora un pochino, ti prego non ti interrompere. Ok, ecco fatto, 1, 2, 3, prova. E vabbè, oggi questo episodio è così, un po' incasinato. Allora, fatemi sapere voi se sapete il problema, siccome a volte l'audio del gioco non si sente proprio. Non so se è la connessione o cosa, ditemelo nei commenti, grazie. 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 Vabbè, in pratica una è una bulla e l'altra è una benestante. Ok, controllo l'audio qualche volta, non si sa mai. Grazie. 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 Allora, io qui avrei fatto la seconda, che è la prima. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. e lo sapevo.